Ognuno di noi si augura di invecchiare con dignità, così potrà godersi i suoi ultimi anni pieno di energia, vitalità e in buona salute. Tuttavia, con l'età, molto spesso il nostro corpo inizia a mostrare i segni che le cose non sono più come prima. La nostra energia, la pelle, i tempi di guarigione e di recupero, il sonno, sembra proprio che tutto vada in discesa. A meno che non si stia utilizzando i prodotti di LifeWave. Dal 2004, LifeWave offre la sua straordinaria tecnologia che migliora la vita a persone in tutto il mondo, consentendo al corpo di continuare a compiere quello per cui è stato progettato, ma in modo più efficiente. E a quanto pare, il meglio doveva ancora venire. David Schmidt, il nostro fondatore, nonché la forza creativa e l'ideatore di fama mondiale che si cela dietro la tecnologia di LifeWave, ha recentemente realizzato qualcosa nel campo della scienza rigenerativa con un singolo cerotto LifeWave. che i ricercatori di tutto il mondo, investendo anni e miliardi di dollari, non sono riusciti a realizzare. Presentazione di LifeWave X39, il primo prodotto al mondo in assoluto per attivare le cellule staminali. Una vera svolta nel campo della scienza rigenerativa, che consente di riportare il nostro corpo a uno stato più sano e più giovane, come nessun altro prodotto è in grado di fare. Il segreto risiede nello sfruttamento della potenza della fototerapia, brevettata da LifeWave. L'X39 si avvale della luce per aumentare la produzione di un peptide, noto per la sua capacità di attivare le cellule staminali. Pensa, si tratta delle cellule che generano e rigenerano tutte le cellule e le strutture del corpo umano. Rappresentano i mattoni dei nostri organi, tessuti, sangue e sistema immunitario. Fungono anche da sistema di riparazione interno in ogni parte del corpo. Tuttavia, con l'età, le cellule staminali diventano meno efficaci. La loro capacità di riparare i tessuti danneggiati diminuisce. Infatti, all'età di 60 anni, la loro efficienza si riduce drasticamente. Ma tutto questo può cambiare, applicando ogni giorno un cerotto LifeWave X39 in qualunque parte del corpo. Invece delle cellule staminali più vecchie e meno efficaci, l'X39 favorisce la produzione di cellule staminali più giovani e più sane. Questo incredibile livello di controllo sulla tua vitalità e il tuo benessere non era semplicemente possibile né facilmente accessibile fino ad ora. E la parte migliore? Come tutti i prodotti in cerotti di LifeWave, l'X39 è sicuro, non invasivo e incredibilmente economico. Scopri le opinioni delle persone in merito al LifeWave X39, sostenuto da studi clinici, brevetti multipli e 20 anni di sviluppo. Uno di questi benefici sarebbe stupefacente. Ma l'X39 è così efficace che può influenzare tutto quello che riguarda il tuo corpo, il tuo aspetto, le tue prestazioni, il tuo benessere e la tua capacità di guarigione. È giunta l'ora per te di testare l'efficacia dell'X39. Vivi a lungo. Vivi bene. Vivi giovani. Prova l'efficacia di LifeWave X39. Oggi. Grazie. 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 Grazie.